Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Il gioco esce in Early Access, è uscito il 19 di agosto, resterà in Early Access per un annetto, ma sappiate che ha un multiplayer completamente funzionante, quindi lo potete giocare con amici, e soprattutto ha una generazione casuale di dungeon, ha la parte avventura e la parte logistica di costruzione. Ora, mentre io ve ne parlo, mi porto avanti e recupero un po' di materiali per vi farci vedere, vi spiegherò il motivo, vi spiegherò veramente tutto. Sappiate che se siete fan di Factorio, questo lo dovete assolutamente avere, ma anche di giochi come Forger o Miniland, perché la grafica comunque li rievocano abbastanza. Il gioco lo sto trovando interessantissimo per questo inizio, perlomeno, e abbiamo questa piccola isoletta, noi siamo atterrati qua con una nave che ci ha portato qui, e poi non so adesso se potremo anche cambiare pianeta, però sicuramente potremo andare su altri pianeti per affrontare i dungeon casuali, infatti vedete c'è anche la scivolata, potremo craftare le armi, e a breve vi farò vedere tutto, perché la base è veramente molto bella. Al momento non possiamo andare nell'acqua, a breve ne scopriremo di più, ne scoprirò di più anch'io, le risorse vanno e vengono, vedete che è appena scomparsa una fonte di carbone. Recupero ferro, carbone, rame e roccia normale, e legno, queste sono le risorse iniziali con cui crafteremo tutto. Ora vi porto in quella base che avevate intravisto appena ho iniziato questo video, sotto abbiamo i tasti veloci, quindi possiamo andare a colpire, o usare il nostro multi tool. Ora, qua vedete che abbiamo la, vabbè qua è da dove siamo atterrati, non so cosa servirà. Qua abbiamo la fornace, io butto dentro carbone, ce n'è già, io volendo posso toglierlo e con lo shift clicco e ci butto dentro il legno. Qua raccolgo i lingotti, qua butto dentro il rame e vedete che pian piano, niente di nuovo, produco i lingotti che mi servono. Qua sotto abbiamo un costruttore, il costruttore ha un gran problema, clicco col destro, vedete, possiamo creare ingranaggi, fili di rame, biocombustibile o processore, o parti per noi insomma, quindi martello primitivo, manico primitivo o la bomba. Tuttavia questo macchinario ha bisogno di energia, l'energia viene prodotta e diffusa in quest'area dalla torre Tesla, bobina di Tesla, scusate. Ma, come si fa l'energia? L'energia io al momento la produco col tapirulant, quindi io corro, quindi se giocate con un amico potete piazzare il vostro amico qui a correre. Ma in realtà se correrete voi stessi col clic destro potete scegliere la produzione, raccogliere, vedete siete a portata di clic e lo potete fare. Così come se io clicco qui vedo che sto producendo 26 di energia e vedo anche quella che è consumata. Adesso vedete che ho la luce perché è notte. Allora, sto facendo per nulla questo perché non sto producendo nulla. Tuttavia adesso io metto in produzione magari ancora un ingranaggio, vedete io tascino i lingotti qui, dice non c'è energia, la inizio a produrre, clicco col destro e vedo che sto producendo uno e due. Mi stufo di, vengo qui, raccolgo tutto. Ok, intanto qua abbiamo prodotto 23 lingotti, ne abbiamo un bel po', io metto in produzione altri lingotti anche di ferro, così ne abbiamo di più. E premendo il tasto B si apre la parte più intrigante. Abbiamo il menu di costruzione. Possiamo fare la fornace che è questa, il costruttore che è questo, il raccoglitore che ci permette di raccogliere le risorse vicino con dei droni APE che proveremo. E il ricercatore che mi permette di sbloccare prodotti e crediti di ricerca. Adesso vediamo come funziona perché andremo a fare anche questo. Abbiamo il nastro trasportatore, per questo vi dicevo che assomigliava tanto a fattorio, sotterraneo o a vista, il movitore che spinge le risorse sul nastro trasportatore direttamente nella fabbrica che lo richiede, il baule e il trituratore. La parte di costruzione per quanto riguarda l'energia riguarda il tapirulant che abbiamo fatto, la batteria quindi un accumulatore, un bruciatore che però chiede una mattonella che io non ho ancora e la bobina di Tesla che abbiamo visto. Qua sotto abbiamo il cannone stellare, la tua entrata al sistema solare. Praticamente questo, da quanto ho visto, farà partire una navicella che andrà su un pianeta a caso e quindi dovrebbe essere un dungeon da affrontare. Il banco porta utensili, questo è molto interessante perché produce e modifica armi modulari, quindi modulari li potremo potenziare. Qua abbiamo, molto interessante, il manichino d'allenamento, quindi potremo verificare il nostro danno per secondo il DPS. Allora, devo produrre, ho detto, dei processori, quindi mi serve prima di tutto del filo di rame, quindi io gli butto del rame dentro, facciamo un po' di filo di rame, intanto tengo monitorato tutto qui, così facciamo, me ne servono 5, io ne ho solo 3, quindi ne faccio 2, ne faccio stop. Ora seleziono processore, raccolgo tutto, deposito questo, deposito questo e facciamo, ricomincio a correre e facciamo altri due circuiti. Perfetto, ora abbiamo fatto tutto, possiamo andare a vedere come si fa quello che ci serviva, il ricercatore. Il ricercatore lo posizioniamo, non so se chiederà energia, ma nel dubbio io lo posiziono qua. Perfetto, questo chiede, ok, premendo il tasto R abbiamo la ricerca e quindi ci chiediamo un altro dubbio. I miglioramenti delle automazioni, delle decorazioni, anche abbastanza inutili. Magazzinaggio migliore, baule grande, alligazione, non so che traduzione sia, comunque c'è la fonderia, l'acciaio, la volta, il volta sarebbe tradotto veramente un po' così, la cassaforte, la lama di spada. Ok, clean energy, energia pulita non ce l'abbiamo ancora e infinite research, questa è la singola ricerca, questa è la potenza del potere di minaggio e l'efficienza del collezionare, insomma le cose. Se io facessi questa cosa qui, richiede venti di questo, no, non lo posso fare. Nasto trasportatore, muovitore lungoraggio, separatore, cioè molto profonda la cosa, ma non so come ottenere quei materiali lì, quindi io aspetto al momento. Che possiamo fare ancora è anche la batteria, che ci consente di mandare in esecuzione senza dover andare sempre lì a correre, il cannone stellare che però non ho ancora, il raccoglitore, mi servono dei lingotti, quelli lì di ferro, quindi ne ho fatti altri. Io intanto vedete che il sistema genera continuamente, li fa comparire e scomparire questi depositi che voi potete andare a minare, che me ne servono un po'. Intanto io deposito il ferro, ferro neo4, continuiamo a fare ferro perché, non mi ricordo quanto me ne serve, ma ha uno ancora, quindi credo che possiamo concludere così. Ok, facciamo questo raccoglitore. Il raccoglitore viene alimentato da questa zona cui, facciamolo qui. Non lo so se va bene lì, possiamo fare un'altra bobina di Tesla forse. Vediamo se non ci butta via troppi materiali. No, mettiamo così, mettiamo così e vediamo se qua funziona fare questo. Il raccoglitore lo mettiamo qua. Ok, manca l'energia. Perché manca l'energia? Perché non abbiamo un accumulatore. Quindi andiamo a piazzare una batteria, che mettiamo qui, e quindi, tecnicamente, ora andiamo a caricarla. Perfetto. Ora, non gli arriva energia, non so il motivo. Satisfaction 100. Vediamo un po'. Satisfaction 100. E questa no. Perché no? Sperate che provo a demolirla. Che mi ridà i materiali, tecnicamente. La metto qui. Satisfaction 100. Ok, la mettiamo qua. Sono io. Tecnicamente adesso dovrebbe essere rifornita. No. Eh, vedete che sono connessi adesso. Ah, ne manca una. Qua, probabilmente. Sì, infatti. Infatti adesso è alimentato. E non so come farà a raccogliere le cose, ma probabilmente andrà e farà per conto suo. Dovrei piazzargli anche dei raccoglitori. Però vabbè. Tanto qua non so quanto dura sta batteria, perché sta già calando tantissimo. Quindi o gliene faccio di più, o cerco di capire come... Ok. No. Dovrei farne un'altra. Però chiede veramente tanti, tanti materiali. Il bruciatore però mi serve quel materiale lì che io non so ancora fare. Non ho idea di come fare. Ora. Ora. Non abbiamo modo di fare altro. Possiamo vedere di... Eh no, non ho proprio altro modo. Quindi possiamo fare il nastro trasportatore. Quindi creare i nastri trasportatori per poter portare le merci che facciamo. Questo non ha nessuna ricerca. Quindi io gliene ricerco una. Per esempio questa. Mi chiede queste. Dieci, dieci, dieci. Io inizio la ricerca. Ah sì. Ok. È come... Eh... Su Factorio quando dobbiamo consegnare le pozioni colorate. La stessa cosa qua. Dobbiamo... Però non ha senso che io cerco questo. Perché non mi dà nessuna cosa. No, dovrei capire come trovare quella nuova... Sblocca l'acciaio. Eh sì. Questa la possiamo anche fare. Non è niente di che. E non so adesso. Il biocombustibile probabilmente ci produrrebbe una quantità migliore di alimentazione probabilmente. Quindi io metto il legname qua. Gli dico fai il biocombustibile. Abbiamo finito anche il... Ok. Devo ricaricare la batteria. Cosa abbastanza scomoda al momento. Dovremmo aver prodotto quello che ci serviva. Ne facciamo ancora. No, credo che... Biocombustibile... Eh sì, chiede due di legna. Se io metto il biocombustibile qui, tecnicamente dovrebbe durare di più... Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vado a tagliare un po'. A scavare un po'. Gli edifici li potete togliere e rimettere come volete. Vediamo quanto dura questo affare qua. Insomma, mica tanto. Comunque. Carbone. Niente. Devo capire come fare quegli ingotti là. Comunque adesso voglio vedere se sta scavando qualcosa qui. Qua vedete che ci sono i droni. E hanno raccolto un po' di roba. Dovrei metterne di più. E alla fine diventa anche un mezzo incrementale come gioco. Perché andiamo a piazzare sempre più linea elettrica. E andiamo a raccogliere passivamente le merci. Tuttavia, io non ho idea minimamente... L'isola è tutta qua, credo. Non dovrebbe esserci niente di strano in più. Io non so come fare quel blocco. Sembra un blocco di pietra. Potrei fare banco porta utensili. Eh no, non posso fare niente. Mi chiedono quel blocco lì che io non ho. Purtroppo. Questi li ho fatti praticamente tutti. Il muovitore non l'ho fatto. Il trituratore neanche. Perché non lo posso fare. Brucciatore neanche. Banco porta utensili. No, non posso fare più nient'altro. Ho fatto già tutto. Quindi adesso devo... Sarebbe bello poi automatizzare di più la cosa. Ma vabbè. Eh, vedremo. Adesso io qui nel costruttore posso fare un martello primitivo, una bomba. No. Ma ho già fatto tutto. Non posso fare nient'altro. Devo guardare per forza la ricerca. Quindi io la ricerca col tasto R. Vediamo se ho qualcosa. Laser da minatore. No. Questo non lo posso fare perché c'è questo lingotto bianco che non ho. E possiamo fare il miglioramento di questo. Cleaner, lavorazione dell'olio, electric furnaces. No. Possiamo provare a farne una così. Lampada. Muro di pietra. Vuoi vedere che dobbiamo fare questo? Eh, mi sa di sì perché parla di muro di pietra. Quindi facciamo questo. Gli deposito dieci lingotti. Devo alimentarlo però. Vedete che sta elaborando adesso. Mi scalerà dieci lingotti, credo. Eh, 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 a voglia. E tra l'altro sto anche consumando forse più di quello che produco. Infatti la batteria non si carica. No, dovrebbe forse. No, è carica, è carica. Però scende ad una velocità immonda. Quindi vediamo un po' come è lo stato della ricerca. Non si vettere. Aspettiamo. E poi devo mettergli anche i lingotti, quelli di ferro. Che non ho. Sto producendo con il rame. Ci siamo? Quasi. Eh, ora rimango qua così. Voglio vedere quanto mi manca cinque. Mannaggia. Adesso ricomincia. Non penso... Sì, ci sarà l'energia pulita, quindi ci sarà anche l'energia solare. Probabilmente. Sette. E continuiamo. Sei. Otto. Quindi vediamo se si aggiorna in tempo reale. Nove. E dieci. Poi dieci di legname e dieci di pietra. Quindi dovrebbe muovere tutto. Dovrebbe smettere di lavorare adesso, infatti. Allora, vediamo. Prendo questo. Dieci di pietra. Ne ho undici. Quindi glieli do. Iniziano a produrre. Tra l'altro, se il rame... Io ne ho poco. Cioè, scusate, se il rame non mi serve, ne ho dieci. Scusate, diciassette. Mi faccio un'altra batteria e la metto qua. Così. Ricarico un po'. Entrambe. La mandiamo in produzione. E anche perché qua ne ho messo dentro solo uno. Quindi ci servono che dieci di... Dieci di legno. Adesso io aspetto di produrre un po' di energia. Perché... Però calcolando la velocità in cui scende non dovrò stare qui tempo in memory. Allora, adesso. Intanto vado a prendermi anche i dieci di legname che mi mancano. E poi finiamo tutto. Ok, le batterie sono cariche. Vanno avanti un po'. Io intanto cerco questo stramaledetto legno. Così facciamo sta ricerca e vediamo come funziona anche la ricerca. Lo gioco è veramente per dieci euro. È fatto veramente bene. Non mi dispiace affatto. Avevo qualche dubbio. Perché ho detto sembra di già visto. Ed effettivamente è già visto. Ma quando ho visto comunque già il fatto che ora in early access hai il multiplayer. Quindi non è una promessa. Ma è già concretamente presente. E i dungeon. Tutta la componente di combattimento. Ho detto. Questo è interessante. Ora vediamo 5 ne ho. Quindi non dovrebbero mancare più o meno 4. Dovete mettervi bene. Se no non corre. Ne manca 4. Si credo di sì. Perché adesso ne mancano 3. A barri ve ne mancano 2. Eh, ci metto un po' a salire. Ora, non vi tedio e ci vediamo alla fine. Ok, la ricerca è al 97%. Ne manca uno che è l'abbiamo ricercata. Quindi la ricerca è completa. Ora non so come funzioni la cosa, ma abbiamo completato la ricerca delle decorazioni. Quindi io non so adesso se ho la possibilità di costruire dell'altro. Sì, perché vedete che ho un sacco di cose. Muro di pietra. Evidentemente cannone stellare. No, ce l'avevamo già. L'altoparlante riproduce una voce robotica. Una lampada. E mi chiede The Godot Engine Blush Cioè praticamente posso mettere sto tizio qua a correre. Sopra. Ah, boh. Non lo so. Comunque non ha concluso nulla di che questa ricerca. Mi studierò un pochino la meccanica andando avanti. Cercando di produrre i nuovi materiali. Questo non lo posso demolire. Quindi mi recupero un po' la linea che ho appena speso. Non abbiamo visto nulla di altre cose. Tra l'altro nei controlli vedete potete giocare anche col pad. Grab Item F. Inventario E. Research. Menù di costruzione. Rotate Building. C'è la chat. Ci sono varie cose. Grab Item. La F. Ma non lo dà. Perché probabilmente sono gli oggetti intesi sul rullo. Quindi io dovrei costruire anche un rullo che mi butta fuori. Qua è un'entrata. Quindi io dovrei mettere in una fornace, probabilmente fornace elettronica, elettrica che mi butti fuori le cose. Ora. Questo non me lo dà completato, ma in realtà qua è completato. Dovrei concentrarmi sulle altre, quindi sbloccare questi trasportatori nuovi. Tuttavia, se io vado a produrre il nastro trasportatore, vedete che lo posso mettere in entrata qua. Vedete che entra così. Uno, due, tre e quattro. Vedete che porta tutto la roba lì. Ma non credo lo butti fuori. Io dovrei mettere un muovitore qui. Cosa che non posso fare perché non ho lingotti. Quindi devo produrre lingotti di ferro. Io demolisco quel resto. Vediamo se lo posso fare adesso. No, me ne serve un altro. Non mi ricordo mai. È il rame quello. Il rame è azzurrino, verdino e l'altro è il ferro. Lo faccio subito, almeno vediamo se funziona. Non che non debba funzionare, però. Il clic destro ne prende la metà. Quindi è comodo un po' la Minecraft. Perfetto, adesso facciamo il muovitore lì. Quindi, vediamo se funziona. Se io metto in produzione qualcosa, se me lo estrae e me lo butta fuori. Sì. Ovviamente. Grab. Grab. Demolisco questo. Faccio un muovitore. Aspetta che prendo anche questo. Metto il muovitore qui. No, mannaggia. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Devo fare... Mi serve del ferro ancora. Eh, me lo butta fuori adesso. Muovitore. E lo butto qua. E me lo inserisce qui. Ora, io non so... Vedete che non... Non è alimentato questo. Me lo alimentassi. Ma non lo butta fuori comunque, perché... Ci sono i filtri, i blacklist, ci sono i separatori. Cioè, adesso abbiamo visto anche questa componente. Adesso devo demolire tutto e farmela un pochino meglio. Me lo studierò bene. Comunque, questo è Era Starground. Fatemi sapere cosa ne pensate. Molto, molto, molto interessante. E alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.